Pescara raddoppia il numero dell'offerta attuale con la realizzazione delle nuove strutture degli assili nido e riqualificazione di alcune aree con i fondi della PNRR. Anche in previsione della fusione della nuova Pescara le strutture all'avanguardia verranno costruite nelle zone di via Lago Isoletta, via Santina Campana, via Rubicone e infine via della Fornace Bizzarri che in seguito alla vicenda del ricorso al TAR la procedura si è conclusa con esito positivo. Strutture realizzate con materiali ad alta tecnologia e perenne ad impatto zero, antisismiche con tetti verdi a copertura, pannelli fotovoltaici, riutilizzo dell'acqua tramite un sistema meccanico di depurazione e grandi aree verdi intorno. Allora finalmente siamo arrivati alla conclusione perché avevamo in sospeso l'asilo di via Bizzarri, dopo la sentenza del TAR c'è stata la risposta del Consiglio di Stato che ha recepito le richieste del Comune quindi anche l'asilo su via Bizzarri si farà. Quali sono i fondi a disposizione messi per la costruzione di queste quattro strutture? Sono fondi del PNRR, sono 6 milioni e 800 mila euro distribuiti sulle quattro strutture dove daremo la possibilità a 220 bambini della nostra città e poi con la nuova Pescara quando sarà completato l'iter di frequentare questi asili nido. e quindi daremo la possibilità alle famiglie che lavorano di poter far sfruttare questa situazione quindi i bambini potranno tranquillamente frequentarlo.